mi trovo a sanza per un evento culturale libri al borgo con me e luca maurelli autore di un ennesimo libro ti serve uno bravo luca parlaci un po del libro innanzitutto vorrei dire che il termine che ho utilizzato l'ennesimo libro mi sa un po come dire di una cosa non carina detto a uno scrittore l'ennesimo intende che forse ne ho scritti troppi di libri però diciamo aprile con una battuta realizzato finalmente di un nuovo libro però scherzi a parte ho scritto un libro e lo presento stasera qui alla libri al borgo di sanza molto diverso da quelli che ho scritto in precedenza nei quali mi occupavo prevalentemente di cronaca noi ci siamo conosciuti e tu ricorderai che abbiamo presentato anche qui peraltro un libro sulla vicenda di simon gotti il ragazzo francese che era scomparso nel cilento nel 2019 fu ritrovato morto era un libro di inchiesta molto serio credo anche come dire che servia a fare un po di carezza su quella vicenda di cronaca molto particolare controversa stasera invece a stanza presento un libro che per quanto tratti un argomento serio cioè la psicoterapia la psicologia e tutto il mondo dei terapeuti e dei pazienti che come sai soprattutto dopo il covid si è molto allargato a tante persone che non conosceva come è nata l'idea l'idea nasce dal fatto che io in prima persona sono stato un paziente fin da quando ero ragazzino quando diciamo era anche un po complicato e imbarazzante dire agli amici o ai parenti che si andava dal terapista dal terapeuta dal psicologo sembrava un po una dichiarazione quasi di follia oggi invece andare dal terapeuta è di moda tutti lo dicono molti lippo se ne vantano e soprattutto in tanti sia ragazzini che adulti che anche persone finanziarie mi fanno ricorso perché purtroppo la società è diventata sempre più complicata da sostenere dal punto di vista personale e molto spesso l'aiuto esterno è importante finalmente lo si vive diciamo senza vergogno senza la paura di dirlo io ho creato quindi cosa un manuale nel quale racconto in maniera ironica credo anche divertente molti episodi raccontando anche tutte le esperienze ho avuto con una decina di psicoterapeuti fornendo anche dei consigli su come relazionarsi quando si entra alla stanza un terapeuta si stende ci si stende sul lettino ci si siede sulla poltrona quale è il modo anche per aprirsi e per non fare pure un viaggio introspettivo introspettivo anche un qualche piccolo segreto su delle trappole che il terapeuta potrebbe in qualche maniera porre sul vostro percorso sul percorso del paziente io non ho fatto mai questa esperienza potrei essere secondo te un paziente ideale ma per come mi conosci come mi riguarda il paziente ideale lui si vince semplicemente osservandoti perché sei un personaggio che nasconde mille sfaccettature sei una persona seria ma allo stesso tempo è una vena inizialmente anche insospettabile di sana follia hai una grande carica anche di ecocentrismo ti piace stare al centro dell'attenzione ma allo stesso tempo ti piace dare molto spazio agli altri cioè tu sei uno nessuno e centomila perché viene usata spesso questa frase ti serve uno bravo a uno bravissimo perché stai rovinato talvolta invece questa frase cosa svela la possibilità di fare luce sulle tante personalità che emergono una persona come nel tuo caso se tu avessi voglia di indagare su alcuni tratti oscuri non quelli più una rifesti ma se ne vuole più di uno bravo diciamo un timma diciamo bisogna trovarne uno bravo non è semplice anche se ho molta stima della categoria degli psicoterapeuti anche il paziente però deve essere bravo perché il paziente deve credere alla terapia deve essere pronto a raccontarsi soprattutto a raccontare le proprie paure che tu negheresti di avere di fronte anche forse a tua mamma un'amica o un amico ma che dentro di te probabilmente coltivi nella notte durante il sonno o nei tuoi peggiori incubi dopo questa breve relazione da parte di luca io ho accettato il suo consiglio intanto ho contattato veramente pure oggi uno bravo ma vi consiglio di leggere il suo libro che vi darà sicuramente la voglia di di fare come me ti serve uno bravo posso aggiungere solo una cosa dove comprarlo questo libro è disponibile su amazon ovviamente è una scelta perché amazon è esso stesso un editore diventato nel senso che la casa editrice che edita questo libro la jack edizioni pubblica solo su amazon per la voglia come dire di rendere un servizio anche ecosist sostenibile lettori perché la possibilità di comprare solo su amazon consente di ordinare il libro e stamparlo immediatamente solo per chi realmente lo leggerà quindi si evita lo spreco di copie centinaia stampate magari non vendute quindi su amazon basta farà la ricerca ti serve uno bravo luca marelli esce lì che si clicca il libro arriva a casa solo se avete realmente voglia e intenzione di leggerlo e di acquistarlo perché esiste anche una ecologia non solo della mente ma anche diciamo della realtà dell'ambiente della sostenibilità la carta è importante gli alberi esistono e noi sappiamo solo quello che realmente serve a fare cultura ti serve un rubro